Siamo con il mister Varacalli del Messorac. Mister, oggi la sua squadra è 22-0, meritatamente. Secondo lei, come ha visto la sua squadra oggi? Siamo partiti bene, nei primi 20 minuti abbiamo creato 3-4 gol. Veniamo da un po' di problemi fisici. Nell'arco della settimana abbiamo cercato di recuperare. Però abbiamo una rossa così ampia da poter fare dei cambi. Noi abbiamo fatto un buon primo tempo. E poi nei primi 15 minuti del secondo tempo ci siamo partiti. Però ci siamo ripresi alla grande e abbiamo controllato la partita. Mister Piero Fotoro, oggi un'altra sconfitta a Messorac. Come ha visto la sua squadra oggi? Abbiamo giocato contro una grande squadra. Sapevamo che poteva essere proibitiva, ma siamo venuti qui con l'intento di cercare di fare il gioco. Cercare di dare un minimo di continuità alle partite casalinghe che stiamo facendo bene. Ho tolto quelli da Trasar che è capitato in un momento natalizio dove non abbiamo lavorato bene i passi di preparazione. Sapevamo che era proibitiva. Non è andata come ci aspettavamo. Onore ai vincitori. Le assenze, mister, di questa squadra di Gasperina si sentono? Si sentono quando devi fare delle scelte, quando devi provare a cambiare la partita. Nel secondo tempo che stavamo cominciando a fare qualcosina in più a livello di terminazione, abbiamo preso qualche metro in più, avevamo bisogno sicuramente a meno di qualche cambio in più. Loro hanno fatto cinque cambi. Con questa nuova regola che c'è ormai da qualche anno, fare un cambio rispetto a farne cinque sicuramente influenza un pochettino la parte fisica della partita e serviva a qualche uomo in più certamente.